Sono iniziati oggi, a meno di una settimana dall'avvio del campionato di Serie B, i lavori per adeguare lo stadio Sinigaglia di Como ai dettami della categoria cadetta. Le ruspe sono partite con le prime demolizioni nell'area davanti al cancello principale, ma in mattinata gli operai stavano lavorando anche all'ingresso all'angolo tra Viale Masia e Via Sinigaglia. L'obiettivo della società è rendere lo stadio agibile per la Serie B a partire dal 22 settembre. Un obiettivo non facile, ammette Flavio Fotti, vicepresidente del Calcio Como, ma concreto. e che contiamo di poter raggiungere. I lavori servono principalmente all'installazione di tornelli e aree di prefiltraggio, con una recinzione che andrà da Via Corridoni fino al Lago in occasione delle partite. Fino a che lo stadio Comasco non sarà aggiornato, gli azzurri giocheranno a Novara. L'esilio dovrebbe durare per una, massimo due partite casalinghe. Oggi sono iniziati i lavori di preparazione ed emolizione, spiega ancora Fotti. Poi si passerà alle predisposizioni per accogliere i tornelli e gli impianti, come ad esempio la videosorveglianza. L'unica incognita riguarda la fornitura delle recinzioni metalliche. Il Calcio Como attende infatti dai produttori conferme su disponibilità e tempi di consegna, operazioni che vanno accelerate, poiché molte aziende hanno riaperto solamente oggi, dopo la pausa estiva. Le cifre dell'intervento potranno essere calcolate con precisione a opera finita, ma aggiornare lo stadio Sinigaglia dovrebbe costare tra i 200.000 e i 300.000 euro.